A poche settimane dalla vendemmia siamo ad Ortona, un paese che del vino ha fatto la propria bandiera essendo tra l'altro uno dei comuni italiani con più vitigni. Parliamo con Gian Nicola Di Carlo, assessore alla cultura di questa imminente operazione che i contadini avranno da fare tra pochissimi giorni. Sì, dopo una fase iniziale abbastanza siccitosa dal punto di vista vegetativo dove i nostri vigneti hanno sofferto abbastanza, qualche settimana fa abbiamo avuto una pioggia ristorativa per quanto riguarda l'equilibrio idrico sui vigneti e ne hanno avuto giovamento in maniera particolare le varietà precoci che andranno ad essere raccolte fra qualche settimana come ben diceva. Tenga conto che le prime varietà si vendemmiano in parlo di Chardonnay e poi a seguire altre varietà autoctone iniziamo già appena dopo il ferragosto, la ventina di agosto. Per le altre varietà, parlo dei trebbiani del nostro Monte Pulgiano che è il vitigno nobile di questa regione, di questo territorio, per la vendemmia si slitterà alla fine di settembre e tutta ottobre. Queste varietà sarebbe gradita una pioggia assolutamente a fine agosto per permettere a queste uve di arrivare a maturazione con una riserva idrica sul suolo importante. È vero che è meglio in collina la coltivazione dei vigneti? Noi non abbiamo queste problematiche, parlo di Ortona, parlo della provincia di Chiedi ma parlo dell'Abruzzo in genere, dove non manca nella pianura e nella collina ma anche le nostre pianure dove ci sono vigneti, parliamo di altitudini sufficienti a garantire delle caratteristiche organolettiche di livello, di grande livello enologico per le cantine. Quali sono i vini pregiati della zona di Ortona? Ma qui parliamo indubbiamente, come dicevamo prima, abbiamo anche Chardonnay, vitigni internazionali, poi abbiamo il pecorino, la passerina e il trebbiano che è il nostro vino di punta ma che rappresenta un po' la storia insieme a queste varietà autoctone riscoperte da alcuni decenni. Per non parlare poi del Montepulciano che è uno tra i vini più bevuti al mondo e noi ci troviamo, come si diceva prima, nella provincia più abitata d'Italia che insieme a Trapani si contende il primato nazionale vitivinicolo. Non c'è dubbio che il nostro territorio deve essere rivalorizzato e portato alla luce con degna autorevolezza e noi lo facciamo iniziando questo percorso di riscoperta di vitigni autoctoni anche con la creazione e l'istituzione di un consorzio che si andrà a costituire da qui a poco e che si chiamerà Ortonadoc. Nella zona, attraverso una mappatura territoriale di tutti i terreni ricadenti sul comune di Ortona, faremo una zonizzazione di queste e una scelta di quali sono i terreni, i luoghi dove è meglio coltivare questo grande vitigno.